Sappiamo che ci aspetta una partita difficile contro una squadra che anche se è stata preparata alla fine è comunque molto preparata e galvanizzata dal fatto che è stata ripescata in Serie B all'ultimo. Ma non lo so, penso che giocano due punti loro e lui gioca in avanti. Diciamo che tanti gol abbiamo presi su calcio piazzato e quindi magari può essere un errore individuale perché è una marcatura sbagliata. Però penso che la maggior parte sia un problema generale, diciamo che la squadra deve affrontare meglio la fase difensiva a partire dagli attaccanti. Con il campionato diciamo che un po' difficoltà all'inizio c'è sempre come l'ho avuto l'anno scorso affrontando il primo anno i professionisti. Però pian piano si acquisisce sempre più esperienza e diciamo che si riesce meglio ad affrontare le partite. Io penso che nel campionato di Serie B non ci sono squadre più forti, squadre meno forti. Certo magari sulla carta vedere il Bari in confronto a Cittadella è normale che dici il Bari è superiore. Però la partita è sempre difficile affrontarle e sono squadre che comunque ti danno sempre il filo della torcia. Ho sempre giocato difensore a quattro, a parte l'ultimo anno di primavera e qualche partita l'anno scorso ho giocato esterno a cinque con la difesa a tre. Grazie a tutti.